ciao ragazzi nuovo video tutto tec siamo tornati per dirvi che amazon impazzita prime day e già in questi giorni da oggi soprattutto ci sono delle super offerte per quanto riguarda tutta la gamma degli eco dot eco show le fire stick per menzionarne una c'è l'eco dot di terza generazione a 17 euro cioè cosa che non ha mai messo a quella cifra sicuramente questo ci fa pensare che magari usciranno dei nuovi eco ma a noi quello che interessa in questo momento è che voi riusciate a trovare delle offerte veramente incredibili per poter ampliare il vostro parco eco o magari per poter cominciare da neofiti facciamo questo video in maniera proprio veloce veloce giusto per avvisare chi ancora non sapesse che sono partiti appunto i prime dei oggi e domani qui sotto in descrizione troverete alcuni dei link che vi rimandano ad amazon con le migliori offerte che abbiamo selezionato per poterle vedere veramente tutte vi rimandiamo e vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale telegram che è è tutto tec 1 voi andate lì e troverete tutte le altre offerte con l'occasione io e marco vorremmo ringraziare gadano grazie gadano è il nostro sostenitore numero uno tant'è che noi nello scorso video avevamo chiesto che ci avevano attivato da youtube la possibilità di farci delle offerte per poter sostenere il canale e gadano prontamente ha risposto al nostro appello sostenendoci con un'offerta che ha fatto a parte questo gadano poi è sempre è sempre attivo risponde commenta allegro sì assolutamente piacevole lui è sempre il primo nei commenti ci fa sempre molto piacere bene ragazzi reinvitandovi ad andare a vedere il nostro tutto tec 1 su telegram chiedendovi di iscrivervi lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video e attivare la campanella vi chiediamo se poi potete anche di sostenerci con un'offerta anche di un caffè a noi fa veramente piacere e aiuta soprattutto il canale a crescere io direi che per questo video tutto ci vediamo al prossimo e buoni acquisti ragazzi ciao ciao